...fortunata e incruenta caccia dell'obiettivo sulle montagne della Siria. Seguendo un alpigiano pratico dei luoghi, l'operatore è riuscito a riprendere una delle bestie più timide e difficili ad avvicinare. La marmotta che si code al sole gli ultimi tepori prima di nascondersi nel suo rifugio sotterraneo per l'abituale lungo letargo invernale. La marmotta che si chiama il suo rifugio sotterraneo per l'abituale lungo letargo invernale. La marmotta che si chiama il suo rifugio sotterraneo per l'abituale lungo letargo invernale.